ciao a tutti ciao sergio io sono alessandra e mi occupo della preparazione atletica femminile e della difesa personale sempre nell'ambito femminile e faccio parte dello staff della palestra greca team di torino ciao alessandra allora mi chiamo sergio leati sono uno psicologo clinico allora abbiamo voluto fare questo video insieme perché pensiamo di trattare questo tema a mio avviso molto importante ossia come riuscire a trasformare e a gestire la paura e la rabbia in in armi a me alleate soprattutto per quanto riguarda una situazione di pericolo imminente ed improvvisa che cosa sono la paura e la rabbia secondo te e la sua esperienza allora per quanto riguarda la mia opinione personale della paura della rabbia e anche una mia opinione relativa alla mia esperienza io penso che possano essere delle emozioni apparentemente negative ma che in realtà se gestite nel modo corretto possono diventare invece dei mezzi a mio favore innanzitutto perché la paura è lo strumento attraverso cui io mi rendo conto del pericolo imminente io attraverso la paura ho un campanello d'allarme di conseguenza la mia rabbia che tendenzialmente è un è un'emozione legata poi alla paura mi dà la possibilità di reagire e per questo io non le ritengo possano essere delle emozioni negative tutt'altro sono delle emozioni che devono essere allenate per diventare dei mezzi dei mezzi utilizzate a mio favore insomma allora la rabbia e la paura sono delle emozioni primitive che hanno la funzione di aiutarci a sopravvivere dai pericoli dell'ambiente che ci circonda la rabbia ci aiuta a preparare il nostro organismo a fronteggiare un pericolo e a difenderci da un attacco proteggendoci anche da un'inclusione mentre la paura ci aiuta a preparare il nostro organismo ad attaccare o fuggire da un oggetto che ci spaventa per evitare che possa causare un danno o a noi o alle persone che ci circondano che cosa sono la paura e la rabbia per le persone che avete incontrato nel vostro percorso allora per quanto riguarda il mio percorso e le persone che incontro all'interno del mio percorso io penso che la che queste due emozioni siano completamente soggettive perché sono emozioni legate a quello che è il vissuto personale di ognuno alle esperienze personali al bagaglio interiore quello che è che è fondamentale è quello che io vorrei far capire con questo video è che queste due emozioni non devono diventare se voglio che diventino mie alleate non devono trasformarsi in in panico ed ira perché se la paura e la rabbia diventano panico ed ira allora sì che diventano emozioni negative perché il panico e l'ira mi immobilizzano totalmente mentre come ho detto prima la paura e la rabbia possono invece essere mie grandi alleate ed è per questo che ogni percorso secondo me singolo di ogni persona deve partire da questo presupposto dalla costruzione di qualcosa di positivo partendo da due emozioni invece che apparentemente sono percepite da ognuno come emozioni negative per alcune persone la rabbia e la paura possono rappresentare degli ostacoli delle fonti di sofferenza che non sanno come gestire nella mia esperienza clinica mi è capitato spesso di lavorare con persone che hanno difficoltà a riconoscere modulare con questa tipologia di emozioni alcune persone fanno fatica a riconoscere e controllare la rabbia e questo li porta a mettere in anzo i comportamenti aggressivi sia fisici che verbali provocando danni a sé o agli altri e quando riescono a riprendere il controllo delle loro emozioni ormai è troppo tardi anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento e modulazione della paura questo porta le persone spesso a mettere in atto dei comportamenti inadeguati e disfunzionali come ad esempio il congelamento o l'attacco in situazioni dove sarebbe più idonea la fuga o viceversa spesso queste risposte comportamentali inadeguate fanno stare male le persone perché percepiscono uno scarso controllo di sé come se una parte di loro fosse non gestibile fosse strana perché è importante saper riconoscere e gestire queste due emozioni nella vita quotidiana e negli sport da combattimento allora è importante iniziare dal presupposto che per ogni soggetto che subisce un'aggressione entrano in gioco diverse variabili fondamentali e a seconda di queste variabili si deve creare un percorso di percorso differente perché ogni persona che subisce un'aggressione o una minaccia di aggressione può dentro di sé a mio avviso costruire questa questo schema mentale ossia io sono io sono forte come il mio aggressore questo schema mentale che suscita rabbia ok ed è una rabbia costruttiva io sono forte come il mio aggressore allora reagisco mi difendo lotto io non sono forte come il mio aggressore ma cerco di far qualcosa altro schema mentale un altro schema mentale che si crea da da una forma di paura a una forma di si può chiamare pseudo rabbia comunque in ogni caso cerco di reagire in qualunque modo anche solamente fuggendo la fuga è già una reazione un altro schema mentale può essere non sono forte come il mio aggressore e non so cosa fare paura che incomincia a diventare già una già una componente comincia già una componente di panico in questo schema mentale e cosa succede la mia reazione è disorganizzata cosa vuol dire che comincio a cercare di fuggire a cercare di reagire comunque non saper come fare in ogni caso a lasciare del tempo all'aggressore di far qualcos'altro e di comunque reagire a sua volta ultimo schema mentale e a mio avviso quello più pericoloso per la vittima è si tratta appunto di pensare io non sono forte come il mio aggressore e non posso fare assolutamente nulla questo è lo schema mentale che sfocia nel panico un panico che mi porta ad essere completamente immobile a non cercare un minimo di reazione in base a questi diversi schemi mentali che ogni persona può costruire dentro se stessa in una situazione di pericolo attraverso questi schemi mentali bisogna cominciare a costruire il percorso che ogni persona deve seguire partendo da quelli che sono i propri limiti e costruendo il percorso sopra i punti di forza di ognuno e questo a mio avviso è fondamentale e parte anche da uno studio psicologico della persona che ho davanti in questo caso del mio allievo è comunque un studio psicologico che è anche molto utile per capire il tipo di approccio a livello di allenamento fisico che devo percorrere con quella persona. Solo se impara a riconoscere quando si attivano le mie emozioni e a gestire le risposte comportamentali saprò mettere in atto il comportamento adeguato per quel tipo di situazione ma questo richiede un costante allenamento al riconoscimento e alla modulazione dell'emozione avvicinandosi pian piano ad esse altrimenti è come cercare di pilotare un aereo senza avere un radar per trovare la pista d'atterraggio e cercando di andare ad occhio. Come ci si può allenare psicologicamente e fisicamente alla reazione? Allora io dico sempre alle mie allieve che innanzitutto la difesa è un atteggiamento mentale questo vuol dire che bisogna intanzitutto far crescere in se stessi la convinzione di non voler essere in nessun caso una vittima passiva. Da questa convinzione si può cominciare a costruire quello che poi sarà la strada verso una reazione completamente positiva ossia si può cominciare a costruire il percorso psicologico e il percorso fisico che una persona deve percorrere per poter poi arrivare ad acquisire una completa sicurezza in se stessi perché quello che un soggetto deve arrivare a fare è poi quello di mettere in pratica tutto ciò che impara in una situazione di aggressione reale in cui poi le componenti che si possono creare sono completamente differenti da quelle che si hanno in una palestra. In un'aggressione reale ci sono tante componenti il fatto di essere da soli la particolare aggressività di una della della persona nei miei confronti il luogo in cui l'aggressione avviene le modalità in cui un'aggressione avviene io devo imparare a gestire lo stress a cui questa situazione reale mi sottopone perché se non riesco a gestire poi questa situazione il mio il mio fine il mio obiettivo non è raggiunto. Per riuscire a sviluppare una maggiore intelligenza emotiva che appunto è la capacità di gestire e riconoscere le emozioni è necessario esporse ad esse in maniera molto graduale imparare ad ascoltarle e a riconoscerle quando si manifestano nel nostro corpo e la pratica sportiva ma in particolare gli sport da combattimento ci possono essere utili ad sviluppare una migliore intelligenza emotiva. Come rispondereste a chi vi pone dei dubbi sull'intraprendere o meno tali percorsi? Allora potrei rispondere a questa domanda partendo dal concetto di autostima ossia l'autostima è la misura attraverso cui ognuno di noi dà un valore a se stesso partendo da questo concetto e dalla volontà di preservarlo ognuno di noi dovrebbe sentirsi un soggetto che non deve subire ingiustamente un'aggressione ma che deve invece avere i mezzi per poterla contrastare e gli strumenti per poterla perlomeno evitare. Partendo da questo concetto di autostima e dalla volontà di preservarla e di aumentarla io consiglio di conseguenza di poter di voler seguire un corso di difesa. Secondo me lo sport in generale è un elemento importante per il benessere psicofisico per chi ha problemi a gestire queste due tipologie di emozioni quindi la rabbia e la paura le palestre dove si praticano sport da combattimento possono essere delle buone officine dove imparare a regolare e far funzionare al meglio queste due emozioni. Vi saluto tutti ciao e ciao Sergio